Tanto, tanto tempo fa, in paesi lontani, lontani, delle giovani principesse vivevano in castelli splendenti. Benché avessero tutto ciò che potevano desiderare, le principesse erano consce che qualcosa stava per cambiare. Accadde così che una notte qualunque, una scrittrice straniera, arrivò ai castelli e offrì alle principesse una profezia in cambio del riparo dal fretto pungente. Loro, che provavano paura per la predizione della scrittrice dal misterioso aspetto, risero del dono e la cacciarono. Ma lei le avvertì di non lasciarsi ingannare dalle apparenze, perché il vero finale della storia doveva ancora arrivare. Le principesse la respinsero di nuovo e in quel momento il velo di mistero della scrittrice si dissolse ed apparve un bellissimo libro. Le principesse si scusarono, ma era troppo tardi, perché lei ormai aveva visto che non c'era via di scampo dal giorno dopo il lieto fine. Vi avevo già parlato delle opere della mia amica Alice Chimera, vi lascio per esempio il link all'ultima qui e nell'info box. Ed oggi torniamo a trattare l'argomento perché è uscita la versione dell'Axe in riedizione favolosa della sua opera Il giorno dopo lieto fine. Vi lascio il link per accapararvi la vostra copia qui sotto nell'info box. E se dopo quel, e vissero per sempre felici e contenti, vi fosse dell'altro? È così scontata la felicità per delle ragazze che si trovano catapultate in mondi fino a ieri completamente strani e così diversi? Una fanciulla che in precedenza era una sirena potrà davvero adattarsi alla vita da umana e veder rispettato il suo popolo del mare da parte degli esseri umani? Una ragazza che aveva vissuto una semplice vita da contadina potrà adattarsi a vivere in un castello i cui abitanti fino al giorno prima erano stati colpiti da una maledizione? Una semplice fanciulla che viveva di stracci e fuligine riuscirà a sopportare la vera natura del marito oltre le apparenze? Una principessa del deserto sarà in grado di assumere appieno il suo ruolo soprattutto se le cose non vanno come ella sperava? Una ragazza risvegliata da un sonno eterno potrà affrontare qualcosa ancora più terribile di una maledizione, ovvero le parentele e le smanie di potere? Una fanciulla dolce e candida può trasformarsi in ciò che odia se mostra dal sentimento sbagliato? Ed infine la ragazzina che si era avventurata in un mondo di meraviglie potrà far ritorno alla realtà così facilmente? Queste sono le storie ambientate il giorno dopo il lieto fine che potrete leggere nel libro di Alice. E per festeggiare l'uscita di questo libro l'autrice mi ha inviato non solo il tomo stesso ma anche alcuni oggetti che rappresentano la mia principessa preferita, in questo caso Belle. Abbiamo anche delle bustine di tè perché non c'è niente di meglio che leggere un buon libro accompagnato da una tazza di tè soprattutto se c'è dei teinomani come me e ovviamente non possono mancare delle essenze profumate e una candela alla rosa, perfetta anche questa per leggere il libro direi. E quindi che dire se volete sapere che cosa accadde il giorno dopo il lieto fine lo trovate sul libro di Alice Chimera edito da Segreti in giallo edizioni, vi lascio il link per acquistarlo qui sotto nell'info box, fatemi sapere cosa ne pensate se lo conoscevate già. Grazie a tutti.